Una risposta ferma ma pacata. Dopo la richiesta di un passo indietro rivolta agli dal senatore Luciano D'Alfonso e dopo l'audizione svoltasi a Roma dinanzi alla Commissione parlamentare per il sistema bancario, il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, ai nostri microfoni ribatte e risponde alle polemiche delle ultime settimane specificando quello che negli anni ha fatto la sua fondazione per la città di Pescara. Si chiede che io faccia un passo indietro ma io sono sempre stato una persona di servizio e al servizio della comunità. Mi ritrovo ancora a fare il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo non contravvenendo a norme e principi statutari ma in rigoroso rispetto di norme e di principi statutari e su proposta di consiglieri numerosi che compongono gli organi dell'ente che all'unanimità hanno voluto che io fossi nuovamente presidente dell'istituto. Lei cosa risponde a chi insomma rimprovera la fondazione di aver poco pensato negli ultimi anni al sociale della città di Pescara, ai poveri, ha messo un po' da parte i principi sociali? Purtroppo una tesi di chi non è documentato e di chi ignora probabilmente perché distratto da impegni più importanti. La Fondazione Pescara Abruzzo ha erogato a favore delle sofferenze sociali in media il 24 per cento delle risorse che costituiscono il fondo istituzionale per le attività erogative a favore di tutti i settori rilevanti statutariamente. Non solo ma si devono aggiungere a questi dati anche gli effetti dei progetti di lungo periodo che la Fondazione ha realizzato nella nostra comunità. Mi riferisco in primo luogo alla Cittadella dell'Accoglienza che è un progetto della Fondazione, di proprietà della Fondazione, che è gestito egregiamente e con grande generosità e impegno dalla Caritas provinciale e che nel periodo che ho citato del triennio 18-20 ha erogato in media poco meno di 60-70 mila pasti all'anno a favore dei poveri. Per chiudere, Professor Mattoscio, secondo lei perché solo oggi molti si accorgono della Fondazione Pescara-Abruzzo e della sua lunga presidenza? Beh, evidentemente perché le cose concretamente realizzate forse adombrano le poche cose realizzate da altri e forse perché anche l'autorevolezza, la reputazione che la Fondazione Pescara-Abruzzo ha conquistato nel corso del tempo, finiscono con lo sminuire il ruolo della mala politica, non quella della buona politica di cui ci sarebbe e ci sarà sempre bisogno, come io mi auguro.